Buongiorno, sono Carmen Darmonte e questa è la rassegna stampa di oggi, 24 gennaio 2018. Cominciamo subito con le notizie. Buona giornata a tutti, in primo luogo. Allora, la prima ci arriva dalla tecnica della scuola e il titolo è più filosofia a scuola, tutti d'accordo. Che cosa è successo? È successo che ieri c'è stato il convegno organizzato anche dal MIUR sull'orientamento per l'apprendimento della filosofia nella società della conoscenza ed è uscita una proposta, è stato presentato il documento per l'apprendimento della filosofia e che cosa scrive? Dice, sillabo di filosofia per competenze. Il documento sugli orientamenti ha come obiettivo, fra l'altro, proprio quello di portare l'insegnamento della filosofia con moduli extracurricolari anche negli istituti tecnici per consentire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di sviluppare il proprio pensiero critico attraverso lo studio di questa disciplina. Il documento vuole dare inoltre un ulteriore impulso alle connessioni tra la filosofia e le altre materie di studio e tra la filosofia e le nuove metodologie di insegnamento. Il sillabo è stato redatto dal gruppo tecnico scientifico di filosofia, da cui fanno parte, insomma, filosofi e professori e docenti universitari e l'idea è appunto quella che vi abbiamo un po' letto, cioè di allargare l'insegnamento della filosofia anche agli istituti tecnici. Questo mi sembra una proposta molto interessante, anche molto costruttiva, perché soprattutto per tutto quello che riguarda l'interazione tra filosofia, tecnologia, uso delle tecnologie e quant'altro, potrebbe essere una chance interessante in più per gli studenti che frequentano questa scuola. La seconda notizia esula un po', ma insomma è interessante. La seconda notizia la troviamo su Galileo.net che riprende un articolo di The Lancet Child and Adolescent Health che parla dei cambiamenti avvenuti nella biologia e nella società che secondo quest'articolo stanno riscrivendo il concetto di adolescenza allargandolo oltre i vent'anni. Leggiamo insieme la prima parte dell'articolo. La consideriamo d'abitudine una fase della vita tanto bella quanto problematica. L'adolescenza, quel periodo a metà strada, sospesi tra l'essere bambini e non ancora adulti, con confini non ben definiti, ma anche in evoluzione. Allora, l'intervallo dell'adolescenza era più o meno considerato tra i 10 e i 19 anni. Invece quest'articolo sostiene che va allargato e parla tra i 10 e i 24 anni. E scrive, intanto la pubertà precoce ha accelerato l'inizio dell'adolescenza in quasi tutte le popolazioni, mentre la comprensione dei meccanismi di crescita continua e ha innalzato i termini ben oltre i vent'anni. In parallelo, l'allungamento dei tempi per le transizioni di ruolo, incluso il completamento dell'istruzione, il matrimonio e la generalità, continuano a spostare la percezione del momento in cui comincia l'età adulta. E quindi, in pratica, che cosa si dice? Anche Susan Sawyer, del Royal Children Hospital di Melbourne, che è uno del primo nome firmatario di quest'articolo, dice che anche se molti privilegi legali cominciano a 18 anni, l'assunzione dei ruoli adulti e delle responsabilità generalmente avviene dopo, per esempio anche molto dopo. Le definizioni dell'età sono sempre state arbitrarie, ma la nostra definizione attuale dell'adolescenza è eccessivamente limitata, dice la Sawyer. Da un lato considerare i giovani più giovani a lungo servirebbe a rimodellare le leggi e le politiche sociali, adeguandole maggiormente ai ruoli attuali che essi hanno nella società di oggi, riconoscendo i cambiamenti del tempo, mentre dall'altro c'è chi intravede anche un pericolo nell'allargare l'età dell'adolescenza, come John McVarge, sociologa dell'Università del Kent, che dice che lo sviluppo dei giovani è più influenzato dalle aspettative della società che della biologia. E che spendere i primi vent'anni muovendo i passi nel mondo del lavoro o studiando non significa necessariamente essere infantili o piccoli. Vabbè, insomma vi lascio alle vostre considerazioni, l'idea che l'adolescenza sia prolungata fino a 24 anni è un po' mi sconcerta e d'altra parte è vero che a 18 anni, quando i ragazzi sono maggiori dal punto di vista legale, molto spesso non hanno nella società un ruolo che riconosce poi nei fatti questa colla. Un'altra notizia invece riguarda i social network e ci interessa insomma particolarmente. Che cosa succede? Succede che dal primo gennaio 2018 i social rischiano fino a 50 milioni di euro di multa in caso di mancata rimozione delle offese. È in questo modo che in Germania si cerca di combattere le speech, quindi i post che incitano all'odio o agli insulti in rete. La sanzione viene data al social network se non rimuove entro 24 ore il contenuto diffamatorio oggetto di denuncia. La legge concede ai grandi colossi del web un lasso di tempo compreso tra le 24 ore e una settimana per l'analisi e la rimozione dei contenuti. I tempi diversi ovviamente dipendono dal tipo di saggio oggetto della segnalazione. Perché hanno promulgato questa legge? È nata a seguito della raccolta di una serie di dati relativi alle denunce effettuate dagli utenti. Secondo il report governativo Facebook e Twitter non avevano rispettato i tempi di rimozione di 24 ore nel 70 per cento dei casi segnalati. Peraltro Facebook ha rimosso solo il 39 per cento dei contenuti esaminati. Come chiunque sa, chiunque abbia fatto una segnalazione o più di una segnalazione su Facebook rispetto a un post o a un video che riteneva inopportuno o quanto non reato o quant'altro, Facebook molto spesso risponde che è stato esaminato ma non viola la policy del social. La cosa ci preoccupa particolarmente perché ovviamente le principali vittime dell'odio in rete sono le donne e le ragazze. A livello europeo si stima che una donna su dieci è stata vittima di cyber violenza. Quindi la Germania ha compiuto sicuramente un passo importante contro gli utenti del web, cioè contro l'odio, quindi contro l'hate speech che è appunto contro le donne in particolari. In Italia la situazione non è molto diversa, penso che tutti quelli che frequentano i social sappiano benissimo che cosa succede, cosa è successo, che cosa succede a Laura Boldrini che poi è un nome per dire che è una famosa che poi quotidianamente succede a moltissime donne in rete. Chiudiamo la rassegna stampa con una notizia dedicata alla scienza come sempre ed è un'intervista sul Corriere della Sera a Fabiola Giannotti. Fabiola Giannotti è la direttrice generale del CERN, l'ente europeo per la ricerca nucleare. E che cosa ci dice la Giannotti in questa intervista? Ci dice che la scienza, come recita il titolo, riduce le disuguaglianze e l'Italia è il paese con il maggior numero di donne che si occupano di fisica e questa è una notizia che ci fa solamente per piacere. La scienza non è solo alla base del progresso umano, sostiene la fisica Fabiola Giannotti, ma ci aiuta a ridurre le disuguaglianze e a colmare le fratture della società moderna. Allora, chi è? Nel 2012 era alla guida di uno dei due esperimenti che portarono alla scoperta del bosone di Higgs. Dal gennaio del 2016 invece è direttrice generale del CERN di Ginevra, che è il più grande laboratorio di fisica al mondo. Al World Economic Forum, Giannotti è una delle sette co-presidenti, tutte donne, per la prima volta nella storia del forum. Il giornalista le chiede, però, un persona, un partecipante su cinque è una donna, è un'operazione di cosmesi? E lei risponde, no, è un segnale forte, indica che esistono donne capaci al mondo e che vengono valorizzate in discipline e in settori molto diversi. Il mio obiettivo da scienziata è di rendere la gente consapevole del ruolo chiave della scienza nel connettere le persone e abbattere le barriere. La scienza è universale e unificante. È universale perché si basa su fatti oggettivi. Una mela cade allo stesso modo nel giardino di Isaac Newton nel XVII secolo che in qualunque altro posto sulla Terra e in qualunque altro momento della storia. È unificante perché è mossa dalla passione della conoscenza. Inoltre la conoscenza non ha passaporto, non ha genere, non ha razza, non ha partito politico. In fondo siamo fatti tutti di particelle, persino il presidente americano. Chiudiamo la rassegna stampa appunto con questa notizia. Io vi ringrazio e in questi giorni quasi tutti gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori stanno girando per gli open day delle università. Ce ne sono 20.000 in questo momento al Mandela Forum a Firenze a guardare, a vedere quali sono tutte le offerte dell'Università Toscana, per esempio, ma insomma neanche tutte le altre. La mia raccomandazione per le ragazze è scegliete facoltà scientifiche, scegliete facoltà scientifiche. Soprattutto le ragazze, scegliete facoltà scientifiche. Va bene, ci sentiamo domani con la rassegna stampa. Buona giornata.